Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Rage Bene, andiamo pure avanti e cerchiamo di vedere che fine facciamo Pessima, ve lo garantisco, però almeno ci siamo un pochino messi a posto Ho capito più o meno che cosa mi aspetta Disse quello che stava per morire, però Insomma, allora, andiamo avanti Mi dispiace di non poterli ruotare con l'inima pazienza se devo arrivare lì e massacrarmi o meglio di no Qui c'è tante strade, c'è tanti porti Che sono già venuto la prima volta che arrivai Si dice così, italiano aiutami E quindi sì, mi sono già perso Ma perché un radar delle missioni non me le dai mai? Qua, ok Ok, ce l'ho fatta Mamma mia che squacquaramento Molto lento, sembra molto antigravitazionale Però avvenne lo stesso Allora, io non mi fido Un po' più per niente Quindi andiamo così finché non vedo che c'è effettivamente la posizione di sparare dalla lontananza Ok, dalla distanza, parliamo italiano Perché sento... Salve Ok, sì sì, vado anch'io in posizione Porca vacca Chi è? Eh, perché penso che devo usare questo? Cazzo parola Granata lanciata Intanto che tu lanci la granata Io cerco di scuggire un attimo Ma se io mi mettessi qua E aspetto Chi me lo fa fare direttamente? Vedete? Traduzione visuale Abbiamo perso la visuale Eh certo Tu le piassi Eh, parca troia Ho fatto la caccata io Eh, no, 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 no Eh, ma allora Eh, avanzare Salve Ma che spazzatelo via Ci penso io Infatti, spazzare via tutto Qua Qua Oh Fatto? Mamma mia Meno male che sono un po' idioti Quindi non sono venuti più di tanto Mamma Che fatica Sono super mega putendi E io il fucile da cecchino Non mi sembra che possa fare I poliziotti Le munizioni potenziate Che cazzo ho detto poliziotti? Quello sono da Pompa Questo di adrenalina No, non posso farli E non li ho visti ancora Eh, da comprare Spero Che ci siano Perché insomma Dovrebbero essere quattro E ne ho solo uno Quindi Spero sia qualcosa di veramente potente Voglio una cosa proprio inalata Che fa esplodere il mondo Mi fa tanto piacere Allora C'è qualcun altro Oh, lo vedo Lo vedo, lo vedo, lo vedo Tu hai perso il bersaglio Ma c'è la torretta lì? Non la usi? Ma io per carità Non mi lamento Ecco qua Perfetto Andato Poi Adesso Peccato che non c'è più niente Da raccogliere qui Che ho raccolto tutto quello Che era possibile raccogliere E peccato che non mi diano Tanti soldi Spero che la missione qualcosa Mi dia Insomma Ok Andiamo pure avanti Saliamo pure di qua Qua non c'è niente Qua, qua, qua Quando? Allora Oh Ovviamente tutte cose che non posso prendere Perché queste sono Della Munizioni standard Autorità E di cosa? Non penso sia Da Non mi verrà mai in mente Pistola? No, non penso Penso più Fucile a Coso Questi No, eppure non sono pieno Non lo so Vabbè Qualsiasi cosa fosse Le avevo E piene Può darsi che sia Quell'altro fucile Quello che dovevo prendere Il mirino Che l'hanno preso Allora probabilmente Devo andare qua E questo l'ho capita Vediamo se ci sono altri posti Cavolo è proprio lungo Sto dungeon Accidenti Non c'è nient'altro Vabbè Andiamo Adesso Ti faccio il culo Tutti quanti Certo Va bene Ho ancora un adrenalinico Quindi posso Risuscitare Ecco Questo Non me l'aspettavo E non mi ha dato un cazzo Allora Io Cosa volevo fare? Volevo fare qualcosa E mi sono dimenticato completamente Che culo Fare il rapporto No, no Fare il rapporto Adesso aspetti Eh Ah Stavo dicendo Qua Fatemi vedere 31 Ecco 999 440 Ottimo questo Eh Dovrei cominciare a pensare Di usarlo a posto al mitra Il mitra Devo usarlo Per sfondarlo Di munizioni Così almeno Lo tengo da parte Quando devo raccogliere Raccolgo E tanti saluti Qui Abbiamo 3 su 4 Questo non lo uso mai Però devo usare Ho tante armi Non posso lamentarmi Di sicuro E anche la pistola Serve per usarla Solo che Non mi dai Molta possibilità Con questo qua Ok Dove siete? Oddio Eh Non è buono Quello che pensi Sì Sicura Proprio sicuro Che lo prendi nel culo Adarrivo io Adesso Non è che te lo metto nel culo Però insomma Ti uccido Allora Vediamo un pochino Ecco Sapevo che ci fosse qualcosa Ma usiamo la pistola O il mitra Mitra Dai mitra Mi piace più il mitra Ok Ma almeno così li uso Cavoli Non trovo così tante Di munizioni È un peccato Non usarli Ma adesso userei Quella pompa Grazie Perché questi qui si avvicinano Come Proprio una violenza inalata Eh sì In zona Ho spavato fino adesso Ma no La granata Ma quanto sei astruso Allora Forse Forse Riesco usare fucile da cecchino Eh proprio Infamiti Oh che bella coscia Andiamo 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 Hai deciso di Salve Mi hai fatto prendere un colpo Complimenti eh Per lo spavento Mi è arrivato all'improvviso Oh che cosa bella Mi scusi Io l'avrei fatto un po' di malo Quanta roba c'è Madame Aldurè Allora posso scendere Vero Posso scendere Non so se effettivamente Mi faccio andare Da qualche parte Insomma sì Chi se ne frega Vediamo se qui c'è qualcosa Non c'è niente Ho fatto una bella pulizia Io lo so Cioè la cosa positiva Che ti fa ritornare È che Se ti metti Qualcosa Hai la possibilità Di effettivamente Riprenderlo Il problema è che Se hai preso tutto Non prendi un cazzo Vabbè Mi sembra giusto Comunque È loccata Questa porta Ah Beh Preso Cosa Mi Oh Interessanto Quindi là Che si poteva scendere Dove cazzo S'era andato Probabilmente Non c'era niente Vero Allora andiamo a vedere Tu sei carico No sei scarico Però se magari trovo qualche munizione Certo con una torcia L'avrei grandita tanto Ok dai andiamo alla torcia Qui si può fare qualcosa Ma si può fare qualcosa anche qui Salve So che adesso così Oh Ho due punti da andare Ah beh Che idiota Che sono Cioè lui mi ha aperto qua Per andare qua Che io ho aperto anche di là Ma è servito molto Eh Va bene Usiamo i munizioni Per l'amor di dio Che ne ho Tante Scusate Voglio spingere La ricarica Invece continuiamo a premere Il pulsante di sparo Ok Fucilo E andiamo Quindi questo Effettivamente Cos'è aperto Allora Questo coso ha aperto Quel coso di là di fuori Che era di qua Che era di qua Ok Bene Sabiamo perché ragazzi Io non è che sono Molto bravo Quindi Stiamo sul safe Benissimo Andiamo Continuiamo la nostra avventura È bella Bella Mi piace questo gioco Alcune cose Le avrei cambiate Ma per l'epoca che ha Ha fatto anche troppo Secondo me Poi Pugnioni personali Allora Non sono stato io Sì Che dopo prendo freddo Cazzo Attenzione Granata Ma perché mi tirate Sempre le granate Eccolo qua Ok Silenzio Basta queste granate Rotte le marrona Che cazzo siete Avete fatto scorta All'Ikea Delle granate Ma quante cazzo ne avete No 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 Ho capito Dove sei Troppo tardi L'ho capito Mamma mia E qua E ore 6 E ore 6 Tu sei qua Brutto freddole Maledetto Eccolo qua Ed ecco qua Ecco perché mi sparava E mi tirava la granata Salve a lei Madonna santa Che botta di Tutta cosa che gli ho dato Ci sarà fatto malo Beh lo spero tanto Allora Vedi che ce n'è un altro Oddio Dio santo Gli ho fatto saltare un braccio Vabbè l'avevo già colpito prima Non è che Sono un genio Insomma si Ok Abbiamo fatto fuori tutti Qui si può aprire Un posto veramente accogliente Ma proprio bello Ci porterò tutta la famiglia Allora Non c'è niente Non c'è nulla Non c'è un cazzo di nulla Non c'è nulla Non c'è niente Questa è la porta brutta di prima Però vedo Ah Un effetto di luce era Un'edizione Questo l'ho già fatto Tutte cose che ho già fatto Ma in pratica Dove devo andare? Qui non c'era Del fuoco Una volta Mi sembra di ricordarmi così Allora Vediamo un po' Posso andare Oh mi ha fatto uscire Oddio se l'ho dato Beh dai sono contento Ecco il cazzo che sono uscito Sono proprio uscito Un'incidente a lui Porta i dati A questo pincopoli Tu non è che mi esci Vero? Che cosa inquietante Allora Devo capire dove andare Ed è buio ragazzi Non so se vedete voi qualcosa Ma io non vedo un cazzo di niente Quindi si può andare di sopra E si può andare Qui invece dove si può andare Da nessuna parte Perché non porta niente E non c'è niente C'è solo la mappa Della protropolitana Che non funziona ovviamente Ok Qua c'è qualcosa Niente di niente Però c'è un posto per Effettivamente Rifugiarsi Me lo ricordo sto pezzo Voglio vedere se avevo lasciato indietro qualcosa Me lo ricordo bene Che qui già era uno Che faceva barretta del qua qua Però non c'è un po' qua niente Allora andiamo via Ok Qua non c'è nulla Qua saliamo Qua ci abbassiamo Perché sicuramente ci sarà pieno di cecchini Eccoci qua Eh infatti ne ho visto già uno Chissà perché Allora qui punta qui Ed è Oh aspetta aspetta Che se mi vedi È un casino eh Tac Eh mi dispiace tanto E infatti ce ne sono tanti Ovviamente 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 È che accetto che mi hai evistato Sono due passi da qui Ehm Oh L'ho visto dopo Ecco qua Ecco questo è uno Da che si riesco a ammazzare un po' a volta Ok Ne sta arrivando un altro Perché questo non mi ha sparato lui Ne sono abbastanza sicuro Ok Copertore Ti do altro che copertura Mi scusi Oh l'ho vista Tac Oh che bella coscia Mi scusi Ecco grazie Molto gentilo Ne sono usciti tre Mi sembra Adesso voi direte Come fai Sapero Non lo so Adesso dovete indovinare Ehm Oh la Qui c'era la famosa Allora vedete che ho ragione Sono munizioni Non vedo niente Volevo andare a luttare Prima che mi facciano il culo Ehm Lut Lut Del tipo Uno è qua L'altro non lo troverò mai Perché non mi ricordo assolutamente Dove fosse Poi non importa Dai tanto al fine è uno Ok Andiamo avanti Ehm Qui si salo Si salo Bene E ci sono altre cosce da fare Qui c'è qualcosina di buono E lo prendo subito e immediatamente Senti Mi hai fatto prendere un cazzo di colpo Bastardo Volevo Porca miseria Che cazzo ce l'aspettava uno lì Ho fatto prima spy con quello che cambiare ama Perché chissà che ama mi portava Quella fretta che avevo Mi avrebbe dato la solita arma del cazzo Allora Qui si scende Prima di scendere Ma se si può scendere Dico io Perché c'è questo coso qui Forse è semplicemente la strada preclusa e basta Va bene Andiamo pure giù Andiamo a vedere Allora Che ansia Che sta mettendo questo livello Che non mi date Avete un'idea Non mi date Che cazzo Salve Forse era questa allora Va bene Facciamo finta che fosse questa Ok Ovviamente Ovviamente E facciamo così Ok Ok Allora Qui c'è qualcos'altro Oh Che bella coscia 24 della polizia Della polizia Ma che cazzo dico Oh salve E queste costano Ho visto che quando le andiamo a vendere Ci danno dei soldini Va bene Questa non posso prenderla Perché è quello di qualsiasi cosa sia Di un mitra L'altro penso E siamo a posto Andiamo pure Adesso finalmente possiamo andare Ho capito dove andare Miracolo Non mi sono perso Andiamo là dove era chiuso Che era chiuso Qui Ok Qui c'è qualcosa No Allora Prima che mi faccia nel culo Prima che mi faccia nel culo Carichiamo tutto Salviamo di nuovo Perché ragazzi Non voglio rifare le solite cagate di sempre Ok Sovrascriviamo Questo non c'è bisogno di fare Un nuovo dai Ci metto A salvare Vabbè E' fatta Adesso possiamo Andare qui Questi sono quelli che ho ucciso prima Che bello che non sono scomparsi Allora 12 Io allora 12 non lo vedo Poi dipende che allora 12 sia Perché io non ho dove Stest Non so dove sia Non avendo una mappa Non è che mi posso orientare Con le stelle insomma Bersaglio qui Bestallo Il bestallo è stato acquisito Ma State sparando Quei cosi Vero Quindi me la posso sbignare Senza problemi Oddio che ansia Ok A posto Andiamo avanti Chi è che è Ero 12 Qui mi fa salire Tutto sbieco Oh Devo andare qui Ok Scusate ragazzi Ma sono teso Lo so che ho salvato Dovevi essere più sgargiullo Insomma Sì Qui c'è Libri Questi sono buoni da vendere Sono tre Ce ne erano nove Lì Mi fa piacere Che hai confermato L'uccisione Chi è Eccolo Quindi non mi hai visto Te E' impossibile Non so proprio dove sei Dove tu sia Ok Io potrei andare qui un attimo Per vedere se c'è qualcosa Ma Ho l'impressione che non ci sia Un cazzo di Grazie Eh lo so Ho fatto la cacata Mi è stato per forza Se tu qui mi fai venire Un motivo c'è Però E non mi fai andare Non mi fa andare Non mi fa andare Inutile Oh oh Aspetta Aspetta No Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ed ecco qua Ecco qua Oh Sarechiamo Perfetto Cucillo del secchino Plutiamo Ed ecco Cosa la volta Facciamo tutto Non vi preoccupate Eh una stadia un po' Un po' impervia Però Insomma Si può fare Qui c'è qualcosa Tanta roba E Accidenti a lui Vorrei fare il video Troppo lungo Intanto ci guardo Allora Ecco Arrivata l'altra volta L'astronave Ok Ho visto chi è atterrato Tanti Ficca non si mettono in posizione Dura Ok Aspettiamo Intanto una volta Li posso anche prendere Posso anche prendere Una volta Così Ok È andata Accidenti Non l'ho preso bene Accidenti To 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 Quindi devo prenderlo Proprio nel braccio Sennò altrimenti Non me lo fa prendere Questo scudo Che è bestialmente Potente Oh Ne ho uccisi tre Dai sono contento Dovrebbe essere l'ultimo Tre alla volta Ne escono Se ne uscissero di più Sarai proprio Nei guai Guarda se c'è qualcosa Che ho lasciato indietro Luttiamo Per carità Per l'amor di Dio Quattordici Tre Dai Sono cose così Soldi non me li dai Mi provando Mi fanno schifo Siccome ne ho pochi Ne ho tanti Cioè Demmene un po' Sono proprio Senza soldi Sono squattrinati Questi O li spendono tutti Prima di Di ritirare Dove devo andare ragazzi Non lo so Mi fai in importe Che poi In fine non c'è niente Allora Di qua Di qua Non mi fai andare Di qua Non mi fai andare Eh Devo andare a volte di qua Non è che ho tanta scelta Insomma Sì E adesso Oh devo andare qua Ok capito Mamma mia ragazzi Non finisce più sto dungeon È veramente tremendo Qui non c'è niente Ovviamente Oh salve Beh Posso fare questo No Come fanno Tirarmi sempre ste granate E avere una precisione Da Robin Hood Eh Ok Tu eri qui vero Sì Mi dispiace tanto Allora Ce n'è un altro Quasi sicuramente Perché ho sentito qualcosa Infatti Ovviamente Mi ha tirato la giornata E' stato bravissimo Lo salve Oh te sei troppo forte Aspetto un attimo Ma chi è spazzato la via? Ovviamente Come lo ammazzo questo Vediamo se riesco a fare male Sì Ah l'ho fatto proprio là Allora tu come hai fatto a lanciare la granata Che ci stavo guardando il mirino A meno che non ce ne sia un altro Ho ritirato Ho ritirato tre colpi in testa Ragazzi E non è ancora morto No Questo deve essere un'elite Perché non ha senso Eh cazzo Non ha senso Dai tre o quattro colpi da testa Deve Deve svenire Questo Eh Incomincio a pensare Che sia un bel problema Ok Oh cazzarola Che bestia Mamma mia Che bestia Un proiettile Due proiettile Cioè Mi hai dato troppa roba Non mi hai dato troppa roba Lo sarà veramente troppo Ma porca miserica Non ci posso credere Allora Allora Vediamo un pochino Adesso Abbiamo di nuovo Perché Questo qui Rifarlo E' veramente Un dito in culo Mamma mia Quanto è potente Dai facciamo che ci salutiamo Qua così Nel prossimo episodio Mi rilascio un attico Quindi ragazzi Come al solito Vi invito a lasciare un like Un commento Se mi piace la serie Fammi Sapere cosa ne pensate E per adesso Vi saluto la sciva Ciao 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 Ciao